Per ieri oggi vi voglio far vedere invece un'altra cosa, cioè stanno girando un sacco di video in questo periodo sull'effetto, vediamo se riesco a farvelo, a prenderlo senza distruggerlo, sull'effetto craclè, vedete? Ecco oggi volevo realizzarlo insieme a voi. Eccoci qua, come vedete io come al solito ho fatto un po' di, velocemente tra un rovesciamento di colore e l'altro, ho fatto, ho cominciato a fare l'effetto craclè e poi con la pasta, con la nostra pasta di zucchero, la Luxury, ho creato un effetto stile raffle. Ma volevo innanzitutto, ciao Nicole, volevo innanzitutto farvi vedere come ottenere l'effetto, l'effetto craclè. Io ho steso semplicemente della pasta di zucchero color, in questo caso ovviamente ho scelto il color nero. Quando stendete la pasta di zucchero per ottenere l'effetto craclè dovete tenerla abbastanza spessa, ok? Vabbè, ora questa è doppia ma non è importante quello, però deve essere abbastanza spessa perché poi dovremmo andarla a ritirare nuovamente. Quindi che cosa dobbiamo avere? Dobbiamo avere un cannellino del gas, ok? Di quelli semplici, li trovate veramente ormai praticamente ovunque. Cosa facciamo? Lo accendiamo e col cannellino del gas andiamo a passare tutta la superficie della torta. Perché facciamo questa operazione? Perché in questo modo noi andiamo a sciogliere la parte superficiale della pasta di zucchero, ok? Ovviamente si scioglie e lo zucchero va, diciamo così, raffreddandosi, va praticamente a caramellare, a cristallizzare, ok? Ed è quello che poi alla fine vi dà appunto l'effetto craclè. Quindi una volta che avete passato bene tutta la superficie, la pasta di zucchero risulterà un pochino più lucida, ovviamente, ed è una cosa normale. Voi passate bene col cannellino, non è che dovete dare fuoco alla cucina, mi raccomando, per fare una cosa del genere. Ora lo so che parlando di me potrei rischiare. Una volta fatto questo, chiudete il cannellino del gas, mi raccomando. Dopodiché io utilizzerò il nostro color aerografo oro. Vedete che io l'ho tenuto, era a testa in giù, perché volevo che il deposito andasse un po' nel tappo, ok? Dopodiché ci prendiamo un pennellino e andiamo a... Ci assicuriamo che questa si sia asciugata e andiamo a spennellare con il nostro oro per aerografo la pasta di zucchero nera. Ok? Così. Potete anche aerografarlo volendo, nulla vi vieta di aerografarlo sempre con l'oro. Ovviamente in questo modo otterrete una colorazione più omogenea e più uniforme. Lasciate tempo al colore per aerografo di asciugare, ok? Non ci vuole tanto ovviamente, parliamo di colore a base alcol, quindi l'alcol evapora praticamente all'istante. Però siccome non lo stiamo usando ad aerografo, lo stiamo usando a pennello, quindi il quantitativo, diciamo così, di alcol che prendiamo è sicuramente maggiore. Lasciamogli qualche secondo, ok? Se volete, quello che eventualmente potete fare è dopo che avete passato il colore per aerografo, ridare nuovamente una velocissima passata col cannello del gas. Proprio, deve essere veloce, 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 eh? Questa volta proprio ci dovete andare speedy. Ok? E richiudiamo il cannello del gas perché come al solito non voglio dar fuoco a tutto lo studio. Con un mattarello cominciate piano piano e dolcemente a ristendere la pasta in questo modo. Ora un po' di colore magari vi rimane sul mattarello, ma è veramente poco male. A questo punto, stendete bene. Vedete come si sta creando? Così. Ecco qua. Ovviamente la pasta è più fragile. Vedete come tende a spezzarsi? Proprio perché l'abbiamo riscaldata e quindi si è un po', diciamo così, seccata. Va bene? Però, se fate attenzione, per questo vi dicevo, tenetela spessa, così potete stenderla un pochino di più e andare comunque a tagliare la parte che rimane più rovinata. E riandate a stendere. Chiaramente, più avrete lasciato la pasta sottile, o l'angelita, più avrete lasciato, scusate, la pasta spessa e più potrete stenderla, ok? E quindi l'effetto crackle sarà ovviamente più visibile. Poi potete stenderla anche in diverse direzioni, in modo da allargarlo sotto tutti. Quindi, ok, adesso facciamo così, ci cominciamo magari a tagliare ok, un po' di pasta in eccesso. Quindi, ora, cercando di non fare lo stesso guaio che abbiamo fatto ieri, andiamo a tagliare via l'eccesso qua e a pareggiare. ieri non riuscivo ad attaccarlo, ok. Dopodiché, di qua, pareggiamo così, ok. E è vero, è vero Pompea, sembra pelle di serpente, a me piace tantissimo. Lo giriamo un attimo a testa in giù e, come sempre, con un pochino di acqua ci aiutiamo, o di colla alimentare, insomma, quello che preferite voi. Aspettate. Ok, quindi, tiriamo su, questa volta non rischio di sporcarmi. Vabbè, facciamo in questo modo che secondo me facciamo prima. Ok, e andiamo a tirare su la torta, così. Qua finisce, quindi io farei così e così. Eliminiamo l'eccesso, ok, e lo riappoggiamo. Una volta fatto questo, voi potete o scegliere di, ovviamente, portarlo sopra, ok. Io, Deborah, io ho usato la nostra flash mod, l'ho colorata di nero con le nostre tempera alimentari. La flash è una pasta che va bene sia per modeling che da copertura. Direi che non ci sono grosse indicazioni, ok? Potete farlo tranquillamente anche con una pasta da copertura. Anzi, dovendo coprire la torta, sicuramente la pasta di zucchero da copertura, secondo me, è più indicata per un lavoro di questo tipo. Immaginatevi anche fare un vestito, così, per una bambolina. Io lo trovo un bellissimo effetto. Ok, ecco qua, lo andiamo. Poi qui sul bordo potete chiaramente andarlo a rifinire come meglio credete, va bene? Bene, qua andiamo a tagliare bene, a filo, anche perché io adesso ovviamente sto lavorando su una dammi, quando lavorate su torta vera magari dovete avere un pochino più di accortezza. Il bello di questo effetto è che se anche crepate un po' la pasta, la pasta non si, cioè non si vede, perché è già un effetto, un effetto voluto, ok? Qui andiamo, cercate di unirlo il più possibile, ok? E direi che l'effetto è finito. Questo è come viene, ok? Ve lo faccio rivedere ancora un attimo, così, e basta. E questo è quanto.